Appaga i tuoi sensi e i tuoi occhi, per la tua casa scegli Sandrini Serrande, in via Manzolino a Piancogno. Alex Riva, disabile 44enne di parre che tutti in paese conoscevano e amavano, ha perso tragicamente la vita cadendo mentre stava portando una sedia in giardino, finendo sopra una delle gambe d'acciaio che gli ha trafitto il collo e reciso la carotide. Un fatto che ha dell'incredibile, che ha lasciato tutti sotto sciocca. Alex frequentava il centro socioeducativo a Ponte Nossa, gestito dalla cooperativa sociale Sottosopra di Parre, ed è proprio in questo luogo che mercoledì alle 14.30 si è consumata la tragedia. Allertati i soccorsi, 112 inviava sul posto l'automedica a un'ambulanza, racconta la madre, mentre veniva contattato all'ospedale di Piario dicendo di preparare la sala operatoria perché sarebbe arrivato un paziente, ma nel giro di 10 minuti Alex è morto. Vano ogni tentativo prestato dai soccorritori. Alla CSE sono arrivati i carabinieri della stazione di Ponte Nossa e di Clusone per gli accertamenti del caso. Non è ancora chiaro se Alex si è inciampato o si è caduto a causa di una crisi epilettica. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e le indagini per individuare eventuali responsabilità sono coordinate dal sostituto procuratore Maria Esposito, che ha già dato in nulla osta alla sepoltura e restituito la salma alla famiglia. I funerali saranno celebrati venerdì alle 15 nella parrocchiale di Parre.